I ragazzi sono sempre più ignoranti degli approcci con la semplicità del rapporto col pianeta che li sostenta. Il pianeta non è meno importante di tutto ciò a cui viene indirizzato l'interesse e l'attenzione dei giovani. I giovani di oggi sanno far funzionare un computer, ma non sanno più collaborare col pianeta su cui, con cui e da cui vivono. Il sistema basato sul mercato fa sì che tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno sia già disponibile previo potere d'acquisto. Ma non è solo una questione di potere d'acquisto, addirittura con carta moneta. Questi sono tutti sistemi adesso divenuti complicatissimi e con i valori inadatti. E tutto ciò che il pianeta fornisce non lo fornisce direttamente ai mercati. Ma riprendiamo da i ragazzi sono sempre più ignoranti degli approcci con la semplicità del rapporto col pianeta che li tiene in vita. Come è accaduto questo? E perché, ma ancor più importante, questo cambiamento funziona equilibratamente? E quando resteranno senza nonni e genitori? Il pianeta non è meno importante di tutto ciò su cui il mercato indirizza l'interesse e l'attenzione dei giovani. La terra è la vita. La precedenza culturale è per la terra. L'uomo vive solo grazie a ciò che la terra gli dà. Agricoltura è per ogni uomo o bimbo una parola di supremo valore significativo. Se per cause di forza maggiore alle capacità intellettuali dell'uomo oggi l'uomo stesso si trova soffocato dal sistema di vivere in cui si è lasciato trascinare dall'ingannevole desiderio di poter raggiungere l'apice del benessere è perché si è allontanato dalla semplice fatica dell'agricoltore. Tramandata e ottimizzata nel corso di tutta l'esistenza umana L'uomo vive finché e perché mangia e mangia ciò che non produce lui un computer, un telefono, un chissà che ma bensì ciò che ha prodotto la terra. I giovani di oggi sanno far funzionare un computer ma non sanno più collaborare col pianeta su cui, con cui e da cui vivono. È oggi urgente necessità che i ragazzi si riavvicinino a conoscere la vita dei prodotti da cui traggono sostentamento Forse un tempo futuro potrà essere un sistema equilibrato diversamente basato su preferenze strutturali indotte da modi che si allontanano da prevalenti fatiche e sudori a cui il vivere agricolo costringe Comunque sarà ancora necessaria la valutazione molto attenta e la constatazione che oltre alla fatica l'agricoltore non pena altro Inteso come paura di non supplire a tutte le scadenze a mali derivati da inquinamenti o rompicapi notturni che non ti fanno dormire per cercare nuove strutture da sviluppare onde riuscire a poter acquistare o a pagare ciò che è rimasto arretrato